Si allarga l'inchiesta giudiziaria su Agora, il consorzio che si occupa della gestione di strutture socioassistenziali finito sotto la lente di ingrandimento della Procura e della Guardia di Finanza di Arezzo che aveva già portato all'arresto del presidente della cooperativa Daniele Mazzetti e dei suoi stretti collaboratori Letizia Beoni e Alessandro Corsetti. Il GIP del Tribunale di Arezzo Fabio Lombardo adesso ha infatti accolto la richiesta della Procura ed ha emesso nei confronti di altri tre soggetti indagati delle misure interdittive del divieto di esercitare uffici direttivi del consorzio nonché di tutte le società adesso facenti capo. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, aveva già portato lo scorso giugno a numerose perquisizioni ed anche al sequestro preventivo di circa 500.000 euro. Le indagini avevano portato a galla l'esistenza di un'associazione per delinquere con base ad Arezzo e con operatività anche in altre regioni dell'Italia centro-settentrionale attiva da anni nella gestione di strutture socioassistenziali in affidamento da enti pubblici e privati. Tale sodalizio che secondo gli inquirenti agiva attraverso diverse società cooperative e consorziate sono state contestate nel tempo numerose violazioni tributarie connesse al mancato versamento di imposte o alla compensazione di debiti fiscali con crediti inesistenti per circa 26 milioni di euro.